Traversa Cesare d'Ingenio nel cuore dei quartieri spagnoli, da oggi è via Ipazia d'Alessandria. È la seconda delle tre intitolazioni che la Commissione Toponomastica del Comune ha deciso di dedicare ad una figura femminile nell'ambito della rassegna Marzodonna. Scienziata e filosofa greca, Ipazia d'Alessandria è ancora oggi un simbolo della libertà di pensiero. Con la Commissione Toponomastica stiamo dando il doveroso e giusto risalto alla storia delle donne, non solo a Napoli ma evidentemente anche in luoghi che vanno oltre i confini della nostra città. In particolare l'Egitto in questo caso è quello che ha rappresentato una donna che ha pagato per la sua libertà di pensiero e per il suo coraggio. Credo che stiamo scrivendo la storia di Napoli anche attraverso la toponomastica e in particolare negli ultimi tempi attraverso la toponomastica femminile. La cerimonia voluta dal consulente alla memoria della terza municipalità Francesco Ruotolo si è svolta tra gli altri alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente ed ha visto la partecipazione degli studenti dei licei Pansini e Piero Calamandrei. Oggi siamo con le scuole della nostra città, il liceo Pansini e il liceo Calamandrei e dedichiamo ai pazzi ad Alessandra, una filosofa, una donna dal grande carisma che in modo truce, vile, vigliacco, è stata uccisa, aggredita nel suo progetto di educazione e nel suo progetto quindi di sapienza. La dedichiamo tra l'altro in un luogo, un luogo della nostra città dove sono tanti i segni attraverso dei murales bellissimi all'impegno delle donne e alla stessa i pazzi ad Alessandra e un luogo dove sono tante le azioni concrete, il nostro palazzetto Urban che è un presidio del comune di Napoli teso ad offrire alle donne della città opportunità, momenti di incontro e soprattutto momenti di forza.